Non pensi sia più importante parlare con me? No. E allora perché sei qui? Senti, mi dispiace per quello che ti ha fatto mio fratello. E mi sono preoccupato solo per il fatto che tu potresti essere un Nataletto con lui e non. E come ti senti con me? Possiamo... Ma questa cosa non può funzionare. E sei dicendo che è finito. Sì. Perché? Perché non ti sei fidata di me. Perché sono delle persone che amano. Adesso ho capito perché fai lo stronzo. Tu vuoi stare sola. È una tua scelta. E non mi permettere mai di ti ricarichi. Però è una scelta di merda. Io e te dobbiamo stare insieme. Dimmi a Chetri che dobbiamo stare insieme. Non mi pare che vuoi stare insieme. A volte è ancora sola persona, anche se conosciuta da poco, può essere così importante e tante e speciale da diventare una piccola. Non mi pare che vuoi stare insieme. 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 Ciao!